Con il centroampista della Pianese, classe 2002, Marco Sanboi, la più giovane di tutta la rosa Anetina. Marco, ritorniamo sulla vittoria di domenica contro la Gianna Erbino per 4-0. Che impressioni del vostro partito? Una buona impressione, abbiamo giocato un'ottima partita e speriamo di continuare con questa andata, sulla strada giusta stiamo. Se punti dopo tre partite, il miglior inizio non potrebbe essere? Certo, certo, perché no? Siamo un'ottima rosa, dobbiamo ancora allenarci duramente perché il cammino sarà molto lungo e difficile, quindi speriamo di continuare sempre su questa strada. Tu sei in classe 2002, arrivi dalla Vigor Perconti, come procede il tuo ambientamento con i nuovi campani di squadra? Dato che vengo dall'allievo, all'inizio ho un po' pagato, ho pagato un bel po', ma piano piano sto capendo cosa chiede il mister e quindi spero di allenarmi sempre duramente, di continuare così e piano piano spero che i risultati arrivano. Tu sei un centrocampista, ci puoi descrivere un po' le tue qualità, le tue caratteristiche? Beh, ho una buona tecnica, fisicamente sono strutturato e spero di migliorare anche sulla rapidità, su un po' di cose. Senti, domenica impegno sempre sul campo di Corgonzola, contro la Gianna Portata Fortuna, che partita sarà contro la TNF? Sarà veramente una partita molto difficile, come tutte le altre, però noi siamo una buona squadra, quindi possiamo sempre fare bene. Senti, il tuo sogno immaginiamo sia l'esordio tra i professionisti? Piano piano, intanto penso ad allenarmi duramente, poi spero che allenandomi bene le cose avverranno.